Niente corsa all'acquisto, niente file fuori dai negozi per accaparrarsi l'ultima novità tecnologica. Quest'anno domina l'austerity, i cremonesi sono costretti a fare i conti con i rincari di luce e gas e la spesa per quell'abito o quell'oggetto tanto desiderato è rimandata a tempi migliori, se non addirittura annullata. In generale sto acquistando poco, proprio, il risparmio è sempre, in questo periodo, diciamo, alla prevalenza su tutto. Stiamo vedendo un attimino come vanno le cose e stiamo curiosando, poi vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. C'è anche chi è contrario a questa forma di promozione. Io sono contro il consumismo, è questo che mi sembra una forma di consumismo che proprio no. Io no, sinceramente, non sono interessata proprio. Anche i negozianti, alcuni dei quali hanno preferito non essere ripresi, hanno rimarcato la mancanza di veri affari. Le persone vanno sempre meno nei negozi e complice l'online, dove per comprare basta un click, gli affari sono sempre più in chiaroscuro. Sono tempi difficili per tutti, però direi che è una buona occasione per approfittarne di questi sconti. Abbiamo iniziato lunedì, per cui la gente cerca un po' di approfittare in un momento particolare di questi sconti per fare qualche pensiero di Natale. Tempi difficili dunque che si riflettono inevitabilmente sugli acquisti, ma diventa sempre più necessario far quadrare i conti.